Sì, 2-2004, però a parte la puntualizzazione sono contento che abbiamo chiuso con una vittoria, è un grosso premio per questo gruppo, per questi ragazzi, io voglio abbinare poi le due stagioni, le ultime due che sono state strepitose, voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare il mio staff che mi ha aiutato e sopportato in questi due anni, non ultimi Barone e Nardini che sono venuti quest'anno, Stefano Ancona, il professore Donofrio che non ha mai mollato, il nostro direttore sportivo Viviano Rolando, quindi tutti i ragazzi del gruppo, non solo i più giovani, gli hanno fatto due anni, ripeto, strepitosi, con il raggiungimento dell'obiettivo pieno e la crescita di tanti ragazzi con il fiore all'occhiello Alessandro De Benedetti che sicuramente volerà per altre situazioni e quindi sono contento per lui e sono contento per la squadra, per questi ragazzi. Questo è il futuro di Rammarico per questo periodo, dove alla fine potevate anche vincere prima rispetto all'ultima partita, però poi la squadra è riuscita a riprendersi in questi due scopi, ma Rammarico, il discorso è che la squadra era partita benissimo, era un play-off equilibratissimo, tant'è vero che è andato il taggia a farlo, quindi c'è mancata una vittoria almeno, avremmo meritate due sulle prime tre, giocando alla pari con la Fezzanese, quindi motivo di orgoglio, poi il calcio a volte gira così, però io alla squadra non posso rimproverare niente, posso solo che ringraziarli perché abbiamo fatto, ripeto, due anni fantastici, a me questo gruppo ha aiutato tantissimo sotto tutti i punti di vista, quindi li ringrazio perché questo gruppo, un gruppo importante, ha fatto sì che, parlo di Scarrone, Porta, non ultimo Scalia che si è aggiunto a metà dell'ultima stagione, Fabri, Faedo, Garipo, Filippo De Benedetti, tutti i giocatori importanti e fondamentali per questa squadra che hanno fatto sì che facessero crescere tutti questi ragazzi, oggi abbiamo chiuso con 11 giovani, comunque tengo a ricordare che questi giovani li abbiamo fatti giocare anche quando le partite erano più calde di queste, perché il futuro di questa società qua possono essere solo i giovani. Comunque bisogna dare, ripeto, merito anche a chi allena la Juniors, Vincenzo Sgambato e Spadoni che sono stati importanti per questi ragazzi, erano ragazzi ben allenati e poi è una conseguenza, non è tanto una conseguenza perché poi diciamo che ci va anche qualcuno che abbia coraggio, però secondo me far giocare i ragazzi non ci va coraggio, ci va solo attenzione, un po' di responsabilità e gruppi come abbiamo noi che ti permettono di inserirli, di farli inserire bene, tenendo conto che per arrivare una rondine non fa primavera, noi abbiamo giocato anche con Marchino 2005, Valentino e Giudice, però il percorso è lungo, è sempre fatto da grande sacrificio e i miei gruppi qua a finale hanno sempre dimostrato quello perché se no in tutti questi anni, 13, non avremmo potuto ottenere tutti questi risultati e sempre, tutte le stagioni, abbinato anche alla crescita dei ragazzi, quindi questo per me è motivo di orgoglio e per questo voglio ringraziare il mio staff e tutto il gruppo che mi ha aiutato, che è stato determinante. Ora ovviamente è il momento di godersela un po', però poi si incomincia, conosciamo, incominci già a lavorare, incominci già a lavorare a brevissimo per questo futuro, come si interviene in un gruppo dove ci sono tutti questi giovani per farli crescere, si dovrà fare qualcos'altro, ci si dovrà inserire qualcuno di diverso, si andrà avanti con chi c'è? Questo qua non lo so, non ti posso rispondere, io devo lavorare anche un po' su di me, sono fuso, sono stati due anni forti dove siamo stati in pochi, qua è stata dura, per questo ringrazio, mi voglio ripetere, ringrazio chi è stato sempre con noi, a partire dal professor Di Nofio, Viviano Rolando, ma tutto il mio staff, però è stata dura, quindi c'è da staccare e poi si valuteranno le cose, adesso è appena finito, quindi sia la società valuterà e anche il sottoscritto. Grazie mille.